Oggi affronteremo un tema interessante e da non sottovalutare, i nove motivi per cui potresti non piacere alle persone. Con uno sguardo stoico cercheremo di capire cosa sta dietro a questo tipo di antipatia e come gestirla con saggezza e resilienza. Sei pronto a scoprire i segreti dell'avversione altrui e imparare come affrontarla con grazia? Accomodati perché ci aspetta un viaggio nel mondo dello stoicismo. Iniziamo. 1. L'invidia e la gelosia. L'invidia e la gelosia sono due delle cause più comuni dell'odio verso di te. Queste emozioni possono scaturire quando qualcuno vede in te qualcosa che desidera ma crede di non poter ottenere. Invece di trovare ispirazione nei tuoi successi, vede le tue qualità come un riflesso delle sue mancanze, il che può portare a un profondo risentimento. Queste persone possono persino cercare di sabotare i tuoi sforzi per alleviare il proprio dolore interno. È fondamentale comprendere che l'invidia e la gelosia sono problemi della persona che le prova e non tuoi e concentrarti su ciò che puoi controllare, le tue azioni e le tue reazioni. Questa consapevolezza ti aiuterà a gestire meglio le interazioni negative e a mantenere la tua pace interiore. 2. Malintesi e comunicazione inefficace. I malintesi e la comunicazione inefficace possono scatenare sentimenti negativi profondi. Anche se sembrano problemi piccoli, possono causare grandi risentimenti a lungo termine. I malintesi nascono da interpretazioni errate o mancanza di chiarezza nella comunicazione. Un errore di comunicazione può far sorgere convinzioni sbagliate sulle intenzioni, alimentando avversioni ingiustificate. D'altra parte, la mancanza di ascolto attivo può portare a supposizioni sbagliate. È importante riconoscere questi fattori per evitare odio ingiustificato e mantenere relazioni sane. Concentrarsi sulla comunicazione chiara e aperta può prevenire malintesi e favorire relazioni positive. 3. Differenze nei valori e nelle credenze di vita. Le differenze nei valori e nelle credenze fondamentali possono essere una fonte di odio. Queste differenze possono riguardare opinioni politiche, religiose, etiche o di stile di vita. Quando una persona percepisce i propri valori come superiori, chiunque abbia credenze diverse può essere considerato un avversario. Questo atteggiamento può trasformare i disaccordi in disprezzo. Le sfide alle credenze radicate possono essere viste come attacchi personali, scatenando risposte difensive intense e ostilità. Queste differenze possono portare a stereotipi e giudizi affrettati, alimentati da paure o pregiudizi. Nella filosofia stoica si sottolinea l'importanza del dialogo aperto, della tolleranza e del rispetto delle differenze per prevenire l'odio e arricchire la nostra comprensione del mondo. Accettare la diversità di prospettive è essenziale per una convivenza armoniosa in una società pluralistica. 4. Influenza di voci e pettegolezzi L'influenza di voci e pettegolezzi diffusi da terze parti è un fattore significativo nello sviluppo di sentimenti di odio. Questi pettegolezzi, spesso falsi o esagerati, possono plasmare ingiustamente la percezione delle altre persone su di te, diffondendosi rapidamente e creando un'immagine distorta e dannosa. Anche quando privi di fondamento, i pettegolezzi possono essere convincenti e influire negativamente sulla tua vita sociale e professionale. Combattere l'odio generato dai pettegolezzi richiede consapevolezza, verità e integrità. Mantenere la trasparenza e la fedeltà alla tua verità sono elementi chiavi per smontare le bugie e ricostruire la tua immagine nel lungo termine. 5. Insicurezze personali e proiezione Le insicurezze personali e la proiezione sono fattori spesso trascurati ma cruciali nelle dinamiche dell'odio interpersonale. Le insicurezze non affrontate possono trasformarsi in invidia e risentimento verso coloro che sembrano avere successo o sicurezza. Questa proiezione delle insicurezze può portare all'odio, poiché la persona vede in te un costante ricordo delle proprie lotte. È importante capire che questi sentimenti non derivano dalle tue azioni, ma sono una manifestazione delle lotte interne di quella persona. Riconoscere questa dinamica può aiutarti a mantenere una prospettiva sana e promuovere un ambiente più positivo. 6. Mancanza di empatia e comprensione La mancanza di empatia e comprensione può alimentare sentimenti di odio. Questa mancanza si manifesta nell'incapacità di comprendere le esperienze e le prospettive altrui, portando a malintesi e interpretazioni errate delle intenzioni degli altri. Le persone che mancano di empatia tendono a vedere il mondo in modo rigido, basando i loro giudizi su supposizioni e non facendo sforzi per comprendere veramente le altre persone. Questa mancanza di comprensione spesso deriva da pregiudizi, giudizi affrettati e da un egocentrismo che le rende insensibili ai sentimenti di altri. Riconoscere questa mancanza come causa di odio è essenziale per affrontare le situazioni conflittuali con equilibrio e cercare modi per promuovere la comprensione reciproca o proteggere se stessi dalle influenze negative. 7. Competizione o rivalità La competizione e la rivalità possono diventare fonti di odio quando si trasformano in ossessioni per superare o danneggiare l'altro. Questo fenomeno si verifica spesso quando una persona si sente costantemente eclissata o inferiore all'altra, generando un desiderio di vederla fallire. La competizione intensificata può portare a comportamenti distruttivi come diffamazione o sabotaggio nei tuoi confronti. È importante riconoscere questi sentimenti per trasformare la competizione in collaborazione o competizione sana e rispettosa, ricordando che il successo di uno non diminuisce il proprio. 8. L'influenza delle aspettative sociali A volte le persone possono nutrire sentimenti negativi se percepiscono un mancato rispetto delle norme sociali o delle aspettative che ritengono cruciali. Ad esempio, immagina di vivere in una comunità in cui è importante seguire tradizioni culturali e valori specifici. Se decidi di intraprendere un percorso di vita che si discosta significativamente da queste aspettative, come scegliere una carriera non convenzionale o avere una relazione che non segue le norme tradizionali, alcuni potrebbero sentirsi a disagio o risentiti di fronte a questa tua decisione. Questo perché le tue scelte sfidano le loro credenze e aspettative, generando ostilità. La pressione sociale e la paura dell'ignoto possono alimentare questi sentimenti di avversione. Tuttavia, è importante ricordare che la tua vita e le tue decisioni sono personali e non devi piegarti alle aspettative degli altri. Nonostante le critiche, mantenere la tua autenticità e vivere in linea con i tuoi valori è essenziale per la tua felicità e il benessere. 9. La mancanza di riconoscimento. La mancanza di riconoscimento può alimentare sentimenti negativi verso di te. In certi contesti, le persone si aspettano di essere valorizzate per i loro sforzi o contributi e, quando questo non avviene, possono provare risentimento o odio. Questo fenomeno può emergere soprattutto in ambienti competitivi, dove l'attenzione e l'apprezzamento sono contesi. È essenziale considerare che il bisogno di riconoscimento può variare da persona a persona. La comunicazione aperta e l'espressione di gratitudine possono aiutare a prevenire conflitti e promuovere relazioni positive. Comprendendo le nove ragioni per cui l'odio può manifestarsi, si capisce che tutte le relazioni richiedono cura e comprensione. In questo contesto, è importante proteggere la propria pace e riconoscere che l'odio spesso deriva dalle lotte personali della persona che lo sente. Non devi cercare di accontentare tutti, ma concentrarti sulle tue qualità e sulle relazioni costruttive. Ognuno ha il proprio percorso e le ragioni per cui qualcuno potrebbe nutrire odio riflettono spesso le sue lotte interiori. Continua il tuo cammino con integrità e autenticità. Apprezza coloro che ti mostrano rispetto e gratitudine per ciò che sei, contribuendo così a creare un ambiente più sano e positivo per te e per chi ti circonda. Non vediamo l'ora di leggere le tue esperienze in merito, quindi ti invitiamo ad iscriverti a dose mentale, attivare le notifiche e condividere le tue storie qui sotto nei commenti. Non esitare a condividere i tuoi traguardi e anche le sfide che hai affrontato. La tua partecipazione è fondamentale per arricchire questa grande comunità, permettendo a tutti di crescere in saggezza e imparare l'arte di trasformare le sfide in opportunità. Grazie per esserci. Ci vediamo nel prossimo video.